Ben tornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Alessandro Del Piero nel mirino dell'attenzione del web. Il viaggio in jet privato insieme a Sonia Amoruso e i suoi figli scatena la polemica sui social . Non è la prima volta che Alessandro Del Piero e molti altri personaggi appartenenti al mondo dello sport, dello spettacolo e dei social vengono travolti da montagne di critiche da parte del popolo del web Gli haters diventano sempre più scatenati e i messaggi condivisi sui vari profili social fanno rabbrividire chiunque Molto spesso a essere presi di mira sono le abitudini di vari personaggi famosi, con l'accusa di esagerare nel mostrare gli eccessi che questi si concedono nel privato E questa volta nel mirino della polemica troviamo proprio l'ex pinturicchio della Juventus Alessandro Del Piero viaggia in jet privato con Sonia Mai, dal momento in cui l'ex calciatore ha deciso di dire addio alla Juventus La scelta di lasciare l'Italia ha fatto sì che per lui nascessero numerosi e proficui progetti lavorativi In qualità di imprenditore nel campo dello sport e anche della ristorazione, dato che il suo locale N10 è tra i più apprezzati Los Angeles Una nuova vita e qualche piccola chicca che Alessandro Del Piero si è concessa e che alcune volte mostra anche sui social Così come la foto in jet privato, nonché un selfie che lo ritrae al fianco della moglie Sonia Amoruso e i tre figli della coppia Uno scatto così intimo che però ha dato vita ad una polemica sui social L'ex calciatore asfaltato dal popolo del web.Dopo la pubblicazione della foto in questione dunque, sono stati numerosi i messaggi condivisi di seguito dal popolo del web, ma anche da parte di amici della coppia in questione Allo stesso tempo però, sono stati numerosi i messaggi pieni di critiche sono stati riservati ad Alessandro Del Piero Infatti, di seguito al post sono numerosi i messaggi simili al seguente diretti all'ex calciatore e Sonia Amoruso Alex, fallo per l'ambiente, non usare il jet privato Commenti ai quali Alessandro Del Piero ha preferito non rispondere, non alimentando il fuoco della polemica sui social Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace, e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video Ciao